Ciao, questo non è un concerto ma è una macchina del tempo che mi porta indietro di 20 anni esatti erano gli anni 90 e la vita era una vera merda erano gli anni 90 e la vita era una vera merda Grazie a tutti. 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 Autorità uguale morte. Grazie a tutti. 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 , grazie a tutti. 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 e a tutti. , grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , grazie a tutti. Grazie a tutti.